Senti, in partita così è difficile dire che c'è chi ha vinto e c'è chi ha perso. Quando è così tirata c'è chi ha vinto e chi non ha vinto. Voi avete vinto, loro no. Siete in sei finale, una grande serata, però pure una grande fatica. Sì, sì, grande fatica. Io sapevo che la Udinese era una partita durissima. Conosco l'anno scorso, scorso anno. Sono contento che abbiamo vinto. Duro, duro. Sono stanco. Dobbiamo ricaricare per domani. Tu già stai pensando alla partita di domani. Questo è un altro giocatore, un altro tipo di testa, no? Sì, sì. Senti l'attimo, ma a un certo punto a Mark Smith che hai fatto? Adesso mi levo i calzoncini e glieli tiro. Parava tutto? È un grande portiere. Meno male che abbiamo vinto. Solo questo. Ho fatto grandi parada, però abbiamo fatto cinque goli. Sono contento per la vittoria. Guarda chi è arrivato. È arrivato un uomo che per 32 minuti è stato il tuo incubo peggiore. A me devo fare i complimenti. Non capita mai di premiare due man of the match. A questa sera ce la siamo sentita. Perché voi avete giocato una partita strepitosa. Beh, una partita come questa non poteva che finire così. Abbiamo dato il massimo. Loro sono stati bravissimi. Avevano un rimotto in più. Peccato. Siamo dispiaciuti, però andiamo a festeggiare lo stesso. Ci meritiamo. Questa è l'Udinese. Guarda, infatti io volevo dire, di solito si parla di chi vince e chi perde. Stasera secondo me c'è chi vince e chi non ha vinto. Che è una cosa leggermente differente. Voi per 32 minuti siete stati in semifinale. Quindi questo insomma vi rende onore. Poi è chiaro che le chiacchiere del dopo fanno piacere, ma certamente non, come si dice, non fanno da carburante per la testa. Però insomma partite da questa partita per ripartire il prossimo anno. Siete una grande realtà del Super 8. Avete, a un signore come Ruimodo, l'avete costretto a un certo punto a decidere. E poi ci penso io. Ho fatto due gol, uno più bello dell'altro. Però insomma mi pare che si riparta e ripartirete da una grandissima partita, una grande realtà. Certo, assolutamente sì. Forse questa doveva essere una semifinale. Però durante l'anno abbiamo avuto dei momenti bui in due tappe. Va bene così, dai. Eh sì, in effetti forse la seconda e la terza tappa. Lui adesso, e adesso che nel bello? Sì, sì. Bello? Il bello perché adesso doveva giocare la semifinale. Questo era il nostro... Bello nel senso che i cavalieri sono brutti. Questo era il nostro obiettivo, arrivare in semifinale. Vado al bergo adesso, ricaricare per domani, perché anche domani è una pacchetta durissima, come oggi. Non gli chiedete neanche che ora è a Ruimota perché vi risponderà. Devo ricaricarmi per domani. Grande professionista a Ruimota. Complimenti per la semifinale. Ciao Amedeo. Non l'abbiamo mai fatto. Ne abbiamo premati due perché questa è stata la partita più bella del Super 8. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.